Sta per cominciare lo show! Ciao a tutti! Oggi vogliamo TV! Grazie! Daniele, nonna Rosetta di Casa Surace Sensore principale da ben 64 megapixel Disponibilità dal 27 maggio Ciao ragazzi! Ciao Givetta! Ciao Givetta! Buonasera a tutti! Ciao Salvatore, come stai? Ciao! Mi TV 4S 65 pollici 699 euro A partire dal 27 maggio Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!